Ecco così che passiamo alla categoria assoluti femmine. Cinque le batterie previste. Nella prima troviamo in corso a tre Sara Grosso, alla quattro Anna Gerolini, in cinque Martina Merletti. E' tre Nanetti, ventisei e sedici. Ieri bella vittoria della gara della doppia distanza dei duecento. Atleta del Gimnasium Bordenone, sui cento in batteria, fa cinquantasei e ventisette. Quanto basta per salire al comando della classifica. Quindi proseguiamo con le assolute batterie. Uno.